Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, nuove informazioni, una nuova sfida, trova la lettera di Deadpool ad Epic Games. E giustamente diciamo, dove caspita si trova questa lettera? Beh ragazzi, non dovete andare in Battle Royale, ma dalla schermata principale dovete spostarvi su Pass Battaglia e entrare in questo condotto da reazione, che come vedete vi porta in un piccolo antro abbastanza brutto da vedere e se guardate in basso a sinistra, lettera A Epic. Ci premete sopra. Caro Fortnite, tu hai ideato un nuovo design per il bus della battaglia. Ho scommesso con i miei amici che se non avessi inserito questo nella scorsa stagione del gioco avrei dato via il mio braccio buono. Per favore dite che arti d'artista sono a rischio e che va aggiunto immediatamente. Il tuo miglior amico Wade. Insomma ragazzi, facendo così avremo semplicemente completato la missione di trovare la lettera di Epic da Deadpool. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, noi siamo in live su Twitch e non perdete tutti i video per la soluzione alle sfide di questa season 2 del capitolo 2. Ciao! Ciao!